C'è Roberto Pietro Brown, capogruppo di Cell. Voi avete fatto mancare l'ordine legale, un atto di protesta rispetto a ieri? Ieri la maggioranza ha abbandonato la sua aula dove i cittadini l'hanno chiamata per governare e per avere una maggioranza. Hanno abbandonato l'aula e noi oggi avremmo dovuto garantire un numero legale su provvedimenti proposti dalla loro giunta. Loro non avevano nuovamente il numero legale. E questa è l'ennesima dimostrazione che la maggioranza che governava questa città, la maggioranza uscita dalle UN, non esiste più. Non esiste più da due anni. La stanno tenendo in vita col respiratore. Io sono a favore dell'eutanasia. In questo caso sarebbe assolutamente necessario che questa giunta si dimettesse e a marzo andassimo insieme alle politiche senza spendere ulteriori soldi ai cittadini a elezioni anticipate. Pietro Barrasso, consigliere di maggioranza, insomma un suo commento rispetto a questa crisi che inevitabilmente comunque alberga qua a Palazzolo. Più che di crisi, come ha già accennato anche il sindaco, come abbiamo illustrato, siamo una componente di maggioranza fatta da diverse anime. Come tutte le componenti, tutte le migliori famiglie, le famiglie dove si chiacchiera, si discute, ci si confronta. Ecco, ieri c'è stato forse un momento importante, un momento di confronto che è stato affrontato con serenità, superato con serenità. Tutto è vero che oggi siamo completamente e serenamente ripresentati e quindi non parlerei sinceramente di crisi, parlerei di confronto. Il confronto è sempre a vantaggio della collettività perché è inutile continuare a battibeccare e litigare se non si va avanti. Meglio parlarsi, meglio chiarire e continuare ad andare avanti pancia a terra per il bene di questa città. Donio Montoro, ecco, lei è il ventunesimo consigliere, insomma, lei in più occasioni ha detto che se il sindaco non tagliasse gli assessori, lei non potrebbe più garantire il suo voto alla maggioranza. È così? No, certamente è così. Io faccio una questione di risparmio dei costi della politica. Siamo in un momento in cui tutte le persone in Italia soffrono. Penso così che dieci assessori per una città di 45.000 abitanti siano troppi. Sono veramente troppi. Penso così che anche noi politici dobbiamo dare il buon esempio. Non voglio ricordare alle persone, perché quelle persone le cose se le dimenticano, che io sono uno di quei politici che un anno e mezzo fa aveva un posto di assessore e ha rinunciato perché già allora riteneva che dieci erano troppi. Perciò rinunciando a circa 1.500 euro, che poi sono diventati 1.300. Quindi ecco, mi viene in mente il prossimo appuntamento. Sarà il bilancio. In qualche modo lei quindi vincolerà questo il suo voto? Io ho messo quello come scadenza, ho detto così che ci sono tre nodi da risolvere. Mi accontento già quello del risparmio sui costi della politica. Comunque c'è anche quello del nuovo ospedale, c'è anche quello della presidenza del Belletti Bona. Queste sono le tre cose che io chiedo, che si risolvano. Allora, come capoglupo del PDL penso di avere la prima volta che lascio una richiarazione, però oggi sono abbastanza esterefatto. Esterefatto perché ho appena dichiarato che due consiglieri comunali del PDL, uno del PDL Gianfranco Gosso e uno della Lega Nord, non sono assenti ingiustificati, erano in ritardo per problemi legati al loro lavoro e l'avevano segnalato. Allora noi abbiamo chiesto, potete garantire il numero legale perché stavano arrivando? Sono usciti dall'aula e l'ho trovato un giusto indecoroso rispetto a quello che è successo ieri. Perché comunque ieri sera è successo, è successo un problema con la Lega, che di fatto peraltro è già stato risolto. Per questo, quello che è successo oggi, per l'abbandonare dell'aula e la minoranza da parte di oggi, sanno benissimo che oggi c'erano delle libere importanti che dovevano essere approvate. Il PD era, e mi ha confermato stamattina, il PD nella persona del Sergio Leone era disposto ad approvare queste libere importanti per il comune di Biella, trasversali. ha abbandonato l'aula. Grazie a questo gesto il consiglio di comunale di oggi non potrà essere fatto e come capogruppo del PDL, della Lega e della lista gentile rappresento abbiamo rinunciato al gettone di presenza di oggi, non so se la minoranza farà altrettanto, come gesto nei confronti dei cittadini, anche di questa pagliacciata. Perché può capitare oggi, penso la prima volta in tre anni, che due consiglieri comunali non hanno potuto garantire il numero legale. Beh, questo non è un bel segnale di politica da parte della minoranza. Grazie. Roberto Desiro, consigliere di maggioranza, ex Lega Nord, ora nel gruppo Miss, insomma, lei mi viene in mente il prossimo appuntamento, sarà il bilancio del 15 di dicembre, lei lo voterà a favore? Ma io valuterò quale sarà la mia posizione sull'onda di quello che sta succedendo. Volevo parlare un attimino di quello che è successo oggi. Purtroppo io da quando ero capogruppo ho sempre ripetuto che se una persona non è in condizioni di poter essere presente al Consiglio Comunale, dovrebbe avere il buon senso di dire mi faccio da parte perché comunque crea un danno alla città, crea un danno alla maggioranza che mi ha votato e che rappresento. Questo purtroppo ancora oggi non è successo, ancora una volta ci troviamo davanti a questo fatto. Per quel che riguarda il Consiglio Comunale di ieri, vorrei ribadire che da ex capogruppo mi dispiace che davanti ad una mozione dove qualcuno sosteneva quello che tutta Biella sostiene, che il Presidente Simonetti ha abbandonato la sua posizione di Presidente della provincia, la Lega, ben sapendo che quanto si stava dicendo era la verità, ha abbandonato l'Aula danneggiando la città di Biella, provvedimenti importanti da prendere che servevano al territorio e questo comunque non ha giovato né alla Lega Nord che continua a scadere sempre di più sul territorio, né a una città in difficoltà come è la nostra. Grazie. Antonio Barazzotto, capogruppo del Partito Democratico, insomma la vostra è stata un ulteriore sgambetto la maggioranza. Veramente lo sgambetto se lo stanno facendo abbastanza bene da soli, comprendisi di ridicolo. Se ieri la situazione era seria, oggi è pressoché drammatica. Ieri siamo andati a casa, si è perso una giornata di lavoro, di servizio per la collettività e oggi è la giornata numero due che si perde perché la maggioranza non è più in grado di garantire un numero legale. Ecco, noi abbiamo un senso del governo, abbiamo il senso della responsabilità, saremmo stati disposti anche a votare alcune delibere, ma qui sta emergendo la debolezza e il dramma di un'amministrazione che non è più in grado di reggere. Il nervosismo del sindaco, questo arrabbiarsi con la stampa, direi che mette veramente in luce una maggioranza che non esiste più e ripeto, Biella ha bisogno di un governo urgente, saldo, coeso e che affronti il problema drammatico del lavoro di una provincia che sta perdendo sempre più punti. Non abbiamo più tempo, pazienza di coprirci di queste farse a cui stiamo assistendo per incapacità da parte del PDL insieme alla Lega. Con Luigi Apicella, co-consigliere dell'UPP, insomma, lei in questi giorni si è diventato un po' un divago, dove sta esattamente? No, io penso che il problema, la chiave del problema è un'altra, penso che è giunto il momento che la Lega deve dire in un molto chiaro e netto, deve finire questa manfrina della Lega, cioè la Lega è arrivata al punto che, visto anche i fatti di ieri e i fatti che sono successe oggi, la Lega deve dire in chiare letta se appoggia ancora questo esecutivo, se appoggia questo sindaco, se appoggia questo programma e tutto qui la chiave, perché penso che non è che con questa manfrina dentro o fuori, per il rispetto della città penso che sia importante questo. Qui il messaggio chiede proprio della Lega, perché è inconcepibile, in base alla dichiarazione di ieri, di componenti della Lega, ma diciamo un po' di tutti e poi oggi si arriva qua in consiglio come nulla è successo, quindi penso che è proprio la Lega che deve dire chiara, in un modo molto netto, se appoggia ancora questo esecutivo, se appoggia questo sindaco, se sì, lo dica, non è che tutte le volte dobbiamo stare qui a contare 20, 21, 22, penso che è un controsenso, quindi non è che è ora di finire questi giochetti per il bene della città, la chiave è tutto qui. Venier, come consigliere Venier, appunto un suo commento. Devo dire che la politica dà sempre dei segni di lontananza dall'aspettativa dei cittadini e purtroppo in questi due giorni è stata l'ennesima riprova del sentimento negativo dell'antipolitica che comunque pervade la nostra nazione, credo che bisogna rispondere con i fatti, io ieri abbiamo avuto una riunione nel quale personalmente ho richiesto alla maggioranza e alla giunta di produrre, di non perdersi nelle prossime settimane in discussioni che alla gente, che ai cittadini non interessano, ma andare sul concreto che sono le cose importanti. Fabrizio Merlo, consigliere di Lab 21 e vicepresidente anche del Consiglio, un commento. La città sta attraversando un momento estremamente critico dal punto di vista politico, la maggioranza in Consiglio Comunale e la giunta dimostrano un momento di gravissima crisi, c'è uno sfaldamento e anche probabilmente poca convinzione da parte, oltre che della giunta, anche da parte dei consiglieri. Oggi, che pure era un momento topico, si sono presentati in un numero insufficiente e mancato il numero legale. Credo che i tempi per questa amministrazione saranno molto difficili e rincresce che in questo momento di crisi per la gente dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, non ci sia un'amministrazione adeguata nel sostenere i problemi di questa città. Credo che il momento sia giunto per cui si debba passare la mano agli elettori che si scelgano una nuova amministrazione, che l'attuale amministrazione rassegni le proprie dimissioni. Edgardo Canuto, capogruppo dell'API, insomma un'ulteriore pagina a questa crisi che ha investito qua il centrodestra, un commento? Ma sì, una brutta pagina, una maggioranza dovrebbe essere autosufficiente, quindi se si chiama maggioranza deve garantire 21 voti e 21 presenze in Consiglio Comunale, il fatto che 21 consiglieri non si presentino è un fatto assolutamente eclatante, ma è successo prima, è un brutto esempio. Come è stato un brutto esempio ieri, abbandonare l'aula da parte del centrodestra non avendo più i numeri, è una crisi profonda. Io credo che forse questa maggioranza o comunque l'amministrazione di questo comune riuscirà a galleggiare ancora per un anno e mezzo, ma credo che a questo punto la sua sorte sia segnata. Con i tempi che corrono comunque non è un bel esempio per la città. A proposito di gettoni, è evidente che chi oggi vuole strumentalizzare l'aspetto economico dei gettoni lo fa in cattiva fede, nessuno percepirà, soprattutto noi, nessun gettone, ma il problema dei gettoni deve essere anche legato alla produttività. Se questa maggioranza non riesce a governare gratis o a pagamento è meglio che se ne vada a casa. Grazie.